Ho simulato la Premier League fino al 2042 su FIFA 23. Visto che il ritorno di questo format è stato apprezzato parecchio, dopo aver simulato 20 anni di Ligue 1 francese, oggi attraversiamo la manica per provare a prevedere il futuro di quello che attualmente è il miglior campionato al mondo. Pertanto, che cosa accadrà al calcio inglese nei prossimi 20 anni secondo FIFA 23? Scopriamolo insieme! Dunque, breve spiegazione. L'obiettivo del video sarà andare a simulare 20 annate in modalità carriera, dalla stagione 2022-2023 alla stagione 2041-2042, e controllare di anno in anno le seguenti cose. La squadra vincitrice della Premier League e delle due coppe nazionali League Cup ed FA Cup, più l'eventuale andamento dei team inglesi nelle competizioni europee. Il bomber in ogni stagione così da eleggere il miglior goleador, la scarpa d'oro della scarpa d'oro, e infine i punti accumulati da ciascuna squadra al termine di ogni stagione, in modo tale da creare una maxi-classifica ed eleggere così un vincitore al termine di questi 20 anni. Ma ora, ciancio alle bande, cominciamo questo lunghissimo viaggio con una squadra completamente randomica, quindi 3, 2, 1, il Brighton, e ci tengo a specificare che per falsare il meno possibile questa maxi-simulazione, all'inizio di ogni singola stagione cambierò squadra e rinnoverò i contratti in scadenza. E sì, è vero, in questo modo la squadra avrà il mercato bloccato per un anno, ma almeno non perderà nessun giocatore, e soprattutto prima o poi tocca a tutti quanti, quindi di fatto c'è sempre una sorta di parcondicio. Mentre per tutti coloro che dicono Mattiar non puoi simulare della carriera giocatore? La risposta è no, perché la mod che mi permette di bypassare il limite di 15 anni in posto da FIFA non funziona in carriera giocatore. E mentre cominciamo a simulare questa prima stagione voglio dirvi un paio di cose. Innanzitutto, se ancora non l'avete fatto, mi do a lasciare un like a questo video, iscrivervi al canale perché pian piano stiamo arrivando ai 500.000 iscritti, e in secondo luogo ricordatevi che tutti quanti i giorni da lunedì al venerdì mi trovate in live sul mio canale Twitch, link in descrizione. E giunti quindi al termine della prima stagione vi posso già affermare con certezza che sono accadute una serie di piccole minchiatine qua e là. Anzitutto delle tre squadre retrocessi in real life, soltanto una è retrocessa anche in simulazione e sfortunatamente il mio amato Southampton, che scende in championship insieme al Brentford e al Fulham, due squadre che si sono salvate comodamente in real life. Al contrario invece si salvano il Leeds e il Leicester, tra l'altro il Leicester ampiamente salvo. Il Brighton non sorprende e colleziona soltanto 39 punti, l'Aston Villa che in real life è arrivato in conference, ora è arrivato dodicesimo, il Wolverhampton che è arrivato a metà classifica, mo si giocherà l'Europa League l'anno prossimo, presumibilmente, con Chelsea, Arsenal, City e Liverpool campione in Champions League, lo United per l'appunto in Europa League, e poi col Tottenham che vince l'FA Cup, attenzione il Tottenham ha vinto un trofeo, e il Liverpool che vince la Carabao, in realtà è il Tottenham che ha concluso ottavo ad andare in Europa League, con il Wolverhampton che giocherà la conference. A livello europeo il City comincia male perdendo la finale di Champions che in real life in realtà ha vinto, anche l'Arsenal comincia malissimo perdendo la finale di Europa League contro l'Inter, che almeno in questo universo ha una piccola gioia europea, mentre in conference le inglesi neanche arrivate alla finale. E solitamente il mercato non lo guardo, ma in questo caso le inglesi hanno fatto grandi cose, ad esempio il City che sostituisce Bernardo Silva con Musiala, l'Arsenal che aggiunge Militao, il Liverpool che aggiunge Milinkovic-Savic per 90 milioni, mentre lo United va ad accaparrarsi Ciro Immobile per 71. C'è Lotito che sta proprio godendo tantissimo. Dopodiché abbiamo Rodrigo al Chelsea, Conrad Leimer al City, Gonzalo Ramos al Wolverhampton che vedo come trasferimento incredibilmente azzeccato. Alla fine però poco importa perché il titolo dei capocannonieri è andato comunque ad un giocatore che in Premier già ci gioca, e quel giocatore è Momo Salah. 30 gol in 38 partite, porca minchia, sono un casino e comunque sapete che in questo gioco Holland è odiatissimo. Forse vincerà il titolo di capocannoniere una o due volte, non di più. Perché questa cosa? Vorrei saperlo anch'io. Eh vabbè, andiamo avanti. Ecco al secondo anno ce l'ha già fatta, 26 gol in 38 partite. Grazie Erling, grazie FIFA, non mi avete affatto fare una brutta figura. Tra l'altro stagione incredibile del City che vince la Premier League, vince la FA Cup, e vince anche la Carabao per un bel triplete domestico, mentre in Europa proprio floppato di brutto, è uscito agli ottavi di Champions per mano del Galatasaray. Anche quest'anno niente inglesi a vincere nessuna Coppa Europea, e quindi ci riproveranno l'anno prossimo con City, United, Chelsea e Newcastle in Champions, Liverpool e Arsenal in Europa League, con il Tottenham in Conference. Dopodiché retrocedono in Championship il Brighton e le due neopromosse Burnley e Watford, con il Norwich che clamorosamente riesce a salvarsi, tra l'altro facendo anche un gran bel campionato. E comunque mi dà fastidio che le Brighton faccia così schifo, è pieno di giovani talentuosi, non ha senso. E alla faccia del cazzo che scambio clamoroso tra Barca e Tottenham. Le due cose sono avvenute a sei mesi di distanza, ma di fatto il Tottenham ha preso Pedri per Kane e circa 60 milioni. Minchia, che acquisto incredibile. Ah yes, di Lorenzo a Real Madrid come sostituto di Carvajal, tutto nella norma. Questa terza stagione è praticamente una replica esatta della numero due, perché abbiamo il City di nuovo campione, e che di nuovo fa tripletta domestica, vincendo sia la Carabao che la FA Cup in finale clamorosamente contro il Middlesbrough, come sia arrivato fin lì, lo sanno solo loro, e comunque United, Arsenal e Newcastle in Champions League, Liverpool e Chelsea in Europa League, Tottenham in confidence, e attenzione al Liverpool perché sta calando vertiginosamente. 94 punti il primo anno, 73 il secondo, 67 il terzo. Potremmo avere una squadra in difficoltà, e non poca. Mentre nelle parti basse della classifica, sappiate che sono risalite sia il Fulham che il Brentford, e che entrambe si sono salvate, perché i retrocederi saranno l'Everton, il Bournemouth e il Blackburn. Sono abbastanza sorpreso dall'Everton non tanto perché in real life non sia una squadra che rischia la retrocessione, quanto perché su FIFA ha un botto di budget e spesso si salva in un solo, arriva addirittura a giocarsi alle coppe europee in pochi anni. Quindi, boh, non ho capito. Minchiavo, Gonzalo Ramos continua un percorso di carriera incredibilmente realistico, Benfica, Wolverhampton United, ci sta. E Bruno Fernandes ha l'Everkusen. Ecco, ora si spiega una cosa. Ecco come hanno fatto le aspirine a vincere la Champions, si è successo, non so perché ma è successo. Ah, e giusto per concludere, al di là di Ozymen al Chelsea e Schick al Leicester, abbiamo la coppia di bomber più strana che ci sia. Phil Foden del City, ma soprattutto il buon Zaha del Crystal Palace. Ho capito che sei un giocatore rotto in simulazione, ma non dovresti essere così rotto. Oh, finalmente una stagione schifosa come si deve. La prima squadra a collezionare meno di 20 punti è il West Brom, che sale della Championship, fa schifo per un intero campionato, e ci ritorna giù insieme al Burnley e clamorosamente la Stone Villa. Regà, la Stone Villa ha una squadra ottima per giocarsi, quantomeno un accesso all'Europa. C'è da dire che la retrocessione se la meritano soltanto per il rebranding, ma, ehi, chi sono io per parlare di ste cose? Il Norwich continua a sorprendermi. Tre ottime stagioni, 46, 40 e 47 punti per loro. Il Leeds arriva ottavo a caso e sfiora l'Europa. Il Tottenham si è adagiato in settimo postopoli. È il terzo anno di fila che finisce lì, proprio, cioè, se la gode. Mentre il Newcastle e Arsenal se ne vanno in Europa League, tra l'altro, piccola parentesi, è il terzo anno di fila in cui l'Arsenal fa esattamente 71 punti. Mentre il Liverpool, United, Chelsea e City si giocheranno la Champions League con il City che ha vinto il titolo soltanto grazie alla differenza reti. Questa cosa è scandalosa, è orribile. Quanto meno il Chelsea si è consolato grazie alla vittoria in Carabao Cup. E anche lo United alza il suo primo titolo vincendo la FA Cup. Ma volete sapere qual è la cosa più clamorosa? Una squadra inglese ha finalmente vinto una Coppa Europea. E quella squadra è inaspettatamente il Tottenham che batte la Dinamo Zagabria in finale di Conference. Bravi gli Spurs! Capo canonieri della stagione con 26 gol, Rodrigo del Chelsea e, ovviamente, Holland del City. Grazie, uomo. Io non ti davo un centesimo e qua mi hai vinto due titoli di capo canonieri in quattro anni. Eh, comunque, il Chelsea si è preso De Jong per 151 milioni e lo United Saliba per 117. Tutto nella norma, regà. Quasi come Xavi Simons all'Atalanta per 100 milioni. Sì, sì. C'è da dire che forse è più ridicolo Mucuoco dal Getafe al Sassuolo per 85. Giusto un pochettino, però. Stagione numero 5 sono già confuso. Già non ci sto capendo un cazzo, quindi un attimo. Retrocedere in Championship il Norwich, che stava andando benissimo fino all'anno scorso, il Crystal Palace, che è boh, a caso, senza motivo, e il Watford. Squadre come Brighton, Fulham e West Ham, che dovrebbero fare abbastanza bene, e stanno facendo schifo. Il Brentford, dopo una serie di annate, me clamorosamente fa un'annata ottima. I siti dopo tre annate in cui ha dominato la Premier, di cui due, tra l'altro, in cui ha fatto anche il triplete domestico, quest'anno arriva ottavo e fuori dalle zone Europa, o meglio, sarebbe fuori dalla zona Europa, se non fosse che ha vinto la Champions League in finale contro il Bayern Leverkusen, quindi, teoricamente, l'anno prossimo giocherà in Champions. L'Arsenal finisce settimo e quindi va in Conference League, il Tottenham si smuove dal settimo posto e va in Europa League insieme al Leeds, mentre il Newcastle, Liverpool, United e Chelsea vanno in Champions League, con i Blues, che hanno vinto il loro primo titolo della simulazione, al quale aggiungono anche la seconda Carabao consecutiva, mentre l'FA Cup finisce nelle mani del Tottenham, tipo la seconda o la terza. Ma non è finita qui, perché, ok, il Tottenham di sfiga ha perso la finale di Europa League, e voi direte, Tier, ma non doveva essere in Conference? Eh, no, perché ha vinto la Conference l'anno prima, quindi va a giocare nell'Europa League. Ma quindi la Conference degli inglesi che l'ha giocata? Il Leeds che era arrivato ottavo e che ora l'ha vinta, tra l'altro eliminando pure l'Atletico Madrid in semifinale con una vittoria clamorosa per quattro ore. Cioè non ha senso questa stagione. Zero! E ripeto, siamo solo al quinto anno, io c'ho paura. E il titolo di capocannoniere venne vinto da Rodrigo, che ha segnato ben 32 gol in 38 partite. Io dubito che questo numero verrà mai battuto. Io devo seriamente iniziare a stare zitto, perché ogni singola volta in cui apro bocca accade il contrario di quanto ho appena detto. Ma difficilmente qualcuno raggiungerà i 32 di Rodrigo. Toh, Darwin Nunes, 32. Per il resto è nata tutto sommato normale. Abbiamo Liverpool, campioni d'Inghilterra, City, Chelsea, United in Champions, Arsenal e Tottenham in Europa League, con il Leicester in Conference. Retrocedono in Championship il Fulham, il Nottingham Forest per la prima volta nella simulazione e il Burnley che sta facendo un po' una dusseldurfata. O meglio ancora una Clermont futtata, se vogliamo. L'Arsenal vince la sua prima FA Cup della simulazione. Il Chelsea vince tipo la terza, Carabao di fila. Mentre il Tottenham solleva il suo secondo trofeo europeo, vincendo l'Europa League. E clamorosamente il Monza è arrivato in finale di Conference. Questa cosa è bellissima. Capito d'acquisti, quello più costoso è stato Schobosley dall'Everkusen al City. Mentre il Tottenham si è pigliato dell'Inghilterra per l'acquisto. Strano ma vero, il Chelsea in questa simulazione si sta rivelando la squadra forse più forte di tutte. Forse è la squadra da battere, chi lo sa. In questo momento lo è senza dubbio avendo vinto sia il campionato, che la Carabao tra l'altro quest'ultima per la quarta volta di fila. Mentre il City si porta a casa l'FA Cup. E insieme ad Arsenal, United e per l'appunto Chelsea si qualifica alla Champions League. Il Tottenham e il Liverpool andranno a giocarsi l'Europa League con l'Aston Villa che ritorna dopo un paio d'anni di purgatorio tra retrocessioni in Championship e schifezze. E addirittura si qualifica per la Conference. Comunque tutto questo, gran stagione del Bournemouth che arriva ottavo. Crystal Palace che torna alla grandissima dalla Championship. Mentre a retrocedere sono il West Ham, il Watford e lo Sheffield United. Perché il West Ham è retrocesso? Cosa gli è successo che due anni fa era in Europa? Ah, e a proposito di Europa, lo United batte in finale di Europa League l'Arsenal. Per vincere quindi il primo trofeo europeo di questa simulazione. Mentre il Newcastle si porta a casa la Conference League. E quindi l'anno prossimo giocherai in Europa League. È un casino, regà. Troppe squadre inglesi stanno vincendo cose in Europa. Mi stanno scombinando tutto quanto all'ordine ontico. Io non ce la posso fare. Ecco, quello che ce l'ha fatta invece è il buon Gable Jesus che nella stagione numero 7 vince il titolo di capocannoniere con 25 gol per l'Arsenal. E comunque, al di là del discount Real Madrid, il trasferimento più laboroso è Scherke dal Bayern al Norwich. Perché il Norwich aveva 120 milioni da spendere? Perché? E signori, giunti al 2031, stagione numero 9, il Tottenham vince per la prima volta la Premier League in questa simulazione dopo aver vinto svariati altri trofei con un solo punto di vantaggio sul Chelsea che invece per la 27esima volta di fila vince la Carabao. Così a caso. La FA Cup invece finisce nella bacheca dell'Arsenal e queste tre squadre insieme al Liverpool giocheranno la Champions League il prossimo anno. City e Wolverhampton in Europa League, United in Conference League, mentre a retrocedere questo giro sono il Fulham, il Leeds e il Bournemouth. Allora, il Fulham ci sta, è qualche anno che gioca in maniera mediocre, ma il Leeds tre anni fa ha vinto la Conference, il Bournemouth l'anno scorso ha fatto 55 punti. Non ha senso niente. In Europa, se non sbaglio, l'unica cosa degna di nota è tipo la Juventus che vince la sua terza o quarta Champions consecutiva, mentre Liverpool e Newcastle perdono entrambe una finale europea. Acquisto dell'anno in Premier League è Rickon Lewis che per 108 milioni va dal Milan al Bournemouth, che comunque, nonostante questo, è retrocesso. E grande Bruno Guimaraes per 66 milioni dal Liverpool al Monza. Certo, come no. Ha comunque bomber di stagione con 24 gol sia Darwin Nunez che Rodrigo che ha la sua terza scarpa d'oro. Questa simulazione è cursata. Potrei aver fatto un errore di sbaglio, infatti la nona stagione è questa qui e non quella precedente. Ed è una stagione strana. Guarda caso, come tutte le altre. Anzitutto a retrocedere sono il Blackburn, il Nottingham Forest e il Sunderland che fa la sua prima apparizione in questa simulazione. Salve per un pelo il West Ham il Watford e il Brentford ma la grande sorpresa è lo United 13esimo perché sia lì non lo so a uno squadrone. Fatto sta che è arrivato a soltanto 11 punti di vantaggio sulla terza ultima il che è pericoloso. Ma non è l'unica grande squadra da aver underperformato perché anche il Liverpool arriva a decimo facendo solo 57 punti e conclude in classifica alle spalle del Norwich. Succedono anche queste cose tra l'altro il Norwich era letteralmente una vittoria dall'Europa infatti la Stoneville se ne va in Conference League Wolverhampton in Newcastle in Europa League con Arsenal Tottenham City e il Chelsea campione di Inghilterra che invece si giocheranno la Champions. Tra l'altro clamorosamente il Chelsea dopo 5 anni consecutivi non vince la Caravao che finisce al City mentre la FA Cup se la porta a casa il Newcastle che batte in finale il Preston North End. Tra l'altro ora che ci penso anzitutto il Southampton è scomparso e il retrocesso nella prima stagione non è mai più risalito il che è decisamente strano e in secondo luogo nessuna squadra di Serie C quindi di League One è ancora arrivata in Premier chissà quale sarà la prima se ce ne sarà una in Europa nulla da segnalare proprio neanche una squadra inglese in finale ah e comunque Darwin Nóñez vince il suo terzo titolo di capocannoniere con 26 gol Holland è sempre sul podio ma non vince mai poraccio stavo o non stavo parlando del Southampton due secondi fa ecco è tornato in Premier League ma fa soltanto 25 punti e se ne torna subito in Championship molto bene il Liverpool fa registrare arrivando a soltanto 50 punti e continuando così la traiettoria in discesa mentre nelle parti alte della classifica lo United finisce in Conference il Tottenham e il Wolverhampton finiscono in Europa League con Newcastle Chelsea Arsenal e Manchester City in Champions League e a proposito di Champions League i Gunners riescono a sollevare la coppa dalle grandi orecchie in faccia al Napoli nel 2032 mentre per quello che riguarda le coppe nazionali il Tottenham batte il Bristol City in finale di FA Cup e il Chelsea si riprende la sua amata Carabao dopo 7 anni dall'ultima volta Holland vince la sua terza Scarpadori in Premier League con 25 gol in 38 partite però occhio a quel Van Duyven che è molto giovane e potrebbe farsi sentire come ma in tutto questo il trasferimento dell'anno è il signor Graf dalla Salernitana allo Sasuna per 107 milioni ovvio Urca il Tottenham sta continuando a scioppare bene eh ho appena scoperto perché il Liverpool sta facendo così schifo semplicemente non hanno un portiere hanno difensori centrali hanno terzini hanno CDC hanno CC hanno Ali soltanto destre tra parentesi ma non hanno portieri giusto per curiosità chi gioca in porta chiedo Florentino ottima scelta logistica con Darwin Nunez sulla fascia aha se non retrocedono è un miracolo e regà clamoroso è successo davvero il Liverpool retrocede in championship e lo so che voi direte Mattia non ti sembra di aver influenzato un po' troppo l'andamento di questa stagione impedendo al Liverpool di comprare un portiere beh sappiate che anche l'anno scorso non ne aveva uno quindi vuol dire che l'anno scorso i 50 punti in campionato li ha fatti senza portiere tuttavia quest'anno è andata male solo 28 punti a retrocessione in championship insieme al Nottingham Forest e al Sunderland ma anche là su in cima le cose sono abbastanza bizzarre City campione d'Inghilterra per un solo punto davanti all'Ester che raggiunge così l'Europa per la prima volta nella simulazione così come il Wolverhampton raggiunge la Champions per la prima volta nella simulazione Champions anche per il Chelsea mentre Arsenal e Tottenham finiscono in Europa League con il Newcastle in Conference League a livello di Coppe Nazionali il Tottenham alza la sua quarta o quinta FA Cup addirittura mentre la Carabao torna nelle mani del City che batte in finale il Morcam come cacchio ci sono arrivati lì i gamberetti e in Europa al di là del Mallorca che batte lo United in finale di Conference League il Tottenham conquista il suo terzo trofeo europeo della simulazione battendo in finale il Siviglia in Europa League mentre il Marsiglia vince la Champions ok mentre per quello che riguarda la scarpa d'oro Holland se ne porta a casa un'altra la seconda di fila dopo anni e anni di assenza e GG Erling io vi giuro che questa Premier League è completamente fottuta di cervello ma la sto amando alla follia il Brighton se ne esce dal nulla e arriva a secondo a meno 4 dal City campione d'Inghilterra guadagnandosi così la Champions che andrà a giocarsi insieme ad Arsenal e Chelsea il Newcastle finisce in Europa League con il Tottenham che invece finisce in Conference e questo perché? perché signori il Crystal Palace ha fatto la Wiganata vincendo la FA Cup si qualifica così all'Europa League ma allo stesso tempo retrocede in Championship arrivando terzo ultimo con 36 punti davanti a Southampton e Sheffield questa cosa è meravigliosa in tutto ciò lo United sta facendo schifissimo 15esimo con 43 punti rischia di fare la fine del Liverpool la scorsa stagione così come lo rischia il Wolverhampton tutto ciò il Norwich continua clamorosamente a fare bene cioè forse è la squadra che mi sta più simpatica all'interno di questa simulazione comunque giusto per concludere l'Arsenal si porta a casa la Carabao e Holland vince la Scarpadoro per il terzo anno di fila portandosi a casa l'ennesima Scarpadoro tra l'altro la migliore di tutta la simulazione e mo' inizia anche a essere vecchiotto quindi not bad e per tutti coloro che staranno chiedendo Matti hanno le mostri più i trasferimenti beh la ragione è semplice sono principalmente region o pre-gen ma io cosa cacchio sto guardando perché il Rapid Vienna ha vinto il girone di Champions League davanti al Monaco e al Siviglia perché il Bologna è in Champions League perché il Monza è in Champions League e sta davanti al Real Madrid che è finito in Europa League comunque volevo controllare in questo momento il percorso del Brighton che però è uscito agli ottavi per mano del Monza in una Champions League che è stata vinta dal Bologna in finale col Borussia Dortmund io ho boh mentre il Crystal Palace dalla Championship arriva secondo nel girone d'Europa League ma viene poi prontamente eliminato dall'Underlecht al turno preliminare e rimanendo in Europa la Conference League viene alzata per la terza volta in 12 anni dal Tottenham che tra l'altro fa anche una piccola doppietta andando a vincere pure la Carabao mentre sia la FA Cup che la Premier League vengono vinte dal Manchester City dopodiché abbiamo Tottenham, Chelsea e Arsenal in Champions League mio casso le West Ham in Europa League con l'Aston Villa in Conference comunque posso dire clamoroso che ci siano 4 squadre a 55 punti e che soltanto per una questione di differenza reti il Norwich non sia riuscito a qualificarsi peccato è comunque grande annata del West Ham che due anni fa era retrocesso tipo il Liverpool torna in Premier e fa un'annata meh mentre lo United cade sempre più giù adesso sedicesimo con 42 punti a solo più 8 dalla zona retrocessione occupata da Bournemouth Blackburn e Burnley mentre il Brighton che l'anno scorso era secondo torna nella sua mediocrità io boh sono confuso ripeto ah e in tutto questo il 2035 è stato l'anno peggiore per i capocannonieri con Zebaios e con Seisau entrambi a soltanto 22 gol e dopo 4 scudetti consecutivi il Manchester City lascia il trono al Chelsea che si porta a casa così il quarto titolo della simulazione l'anno prossimo giocherà la Champions insieme ad Arsenal West Ham e Aston Villa Tottenham e Brighton in Europa League con il City che quest'anno raggiunge soltanto la Conference lo United è in leggera ripresa Newcastle che continua la sua serie di meh mentre il Liverpool fa un'altra annata decisamente mediocre con il Norwich che si salva soltanto per la differenza reti e questo dopo una serie di annate in cui ha sfiorato l'Europa ripeto questo gioco è imprevedibile in Championship alla fine retrocedono Watford Sunderland e Southampton e per quello che riguarda le coppe il Tottenham vince la sua seconda e fake up consecutiva e anche la quinta Carabao della simulazione in sole 14 stagioni ah e in tutto questo i due bomber di stagione sono stati il buon Broia della Aston Villa e Garnaccio al Tottenham ah e quando vi steste chiedendo Mattiar cosa hanno fatto le inglesi in Europa la risposta è schifo signore e signori Erling Braut Haaland 87 anni e ancora bomber della Premier League la sesta settima volta in 15 anni questo giro però con soltanto 27 gol o comunque Bellino e chi dica lo Sheffield Sheffield che tra l'altro ha fatto anche un buon campionato arrivando a più 3 dal Liverpool a pari punti col Newcastle e a meno 2 dallo United ma signori è il momento di dare una notizia molto triste il Norwich è tristemente retrocesso in Championship insieme al Crystal Palace e al West Brom tutti uccelli nel logo hanno uccelli ma a proposito di uccelli nel logo il Tottenham ha dominato questa stagione 86 punti più 19 sulla coppia Chelsea West Ham e seconda Premier League in questa simulazione tra l'altro queste tre finiranno in Champions insieme al Manchester City Arsenal e Brighton in Europa League con la Stoneville in Conference perché questa cosa? perché ok il Tottenham ha fatto doppietta portandosi a casa anche la Carabao ma il Brighton ha vinto le FA Cup e quindi se ne va in Europa League che in realtà non è neanche vero balle il Brighton ha vinto anche l'Europa League battendo il Siviglia in finale l'unica squadra al mondo in grado di farlo e quindi l'anno prossimo si giocherà la Champions di nuovo GG al Brighton due tornei inaspettati ha comunque posso confermare che nessuna squadra è riuscita a fare il doppio o il triplo salto dalla serie C barra di inglese alla Premier League sono soltanto 7 le squadre che oltre alle 20 originali sono state in Premier League e sono tutte quante squadre che ad oggi o meglio nella stagione 2022-2023 stavano in Championship vediamo se cambia qualcosa negli ultimi 5 anni che teoricamente sono quelli non canonici e quindi quelli un po' più fottuti di cervello ebbene questa sedicesima stagione non ha affatto deluso infatti abbiamo il Tottenham che vince il suo secondo titolo consecutivo davanti a Chelsea Newcastle e Brighton che finiscono tutte quanti in Europa Everton che dopo anni e anni di mediocrità se ne salta fuori con una bella qualificazione all'Europa League dove sarà accompagnato dall'Aston Villa mentre il West Ham andrà a giocarsi la Conference perciò sì in estrema sintesi il City è fuori dall'Europa lo United è fuori dall'Europa e ha concluso addirittura alle spalle dello Sheffield l'Arsenal è fuori dall'Europa avendo collezionato soltanto 43 punti in campionato ma ancora peggio il Liverpool è retrocesso di nuovo e questa volta vi giuro io non c'entro niente 37 punti in campionato 2 in meno del Watford che si salva praticamente all'ultima giornata e quindi Liverpool retrocesso insieme al Leeds e al Sunderland in tutto questo il Brighton vince la sua seconda FA Cup consecutiva mentre il West Ham alza il primo titolo della simulazione al sedicesimo anno ossia la Carabao contro l'Ester in finale non ho controllato le competizioni europee ma dubito che sia successo qualcosa e invece col cazzo il Brentford ha battuto il CV perché c'è qua il Brentford? ah giustamente perché il Brighton avendo vinto l'Europa League l'anno scorso sono andato in Champions quindi la Stoneville è scalata in avanti in Europa League e il Brentford si è beccato l'accesso alla Co... ma che casino no GG al Brentford che devo dire? ecco cosa devo dire il signor Martin capocannoniere della Premier con 22 gol chi è Martin? non ne ho idea è uno ma giusto per curiosità cioè il buon Erling è ancora vivo yes ha anche 37 anni ed è ancora un 85 è accettabile mentre Mbappé credo che ci abbia salutato no invece c'è ancora anche lui 39 anni 78 al Charlton frate oh attenzione incredibile dopo 10 anni abbiamo una new entry l'ultimo era stato il Sunderland nel 2029 e ora nel 2039 abbiamo il Coventry che tuttavia arriva a ultimo e quindi scende di nuovo in Championship grande Coventry Southampton e Watford la generano in Championship è peccato perché il Southampton spesso e volentieri ottiene ottimi giocatori e lo ritrovi anche in Europa in 5-6 stagioni sto giro ha fatto schifo il Southampton ha fatto 6 stagioni in Premier di cui 5 è stato retrocesso comunque l'Aston Villa dopo anni di Europa quest'anno arriva a 14esimo Arsenal Chelsea Newcastle le City crollano tutte quante al di fuori dell'Europa e lo so che starete pensando ah che bello finalmente il Norwich ce l'ha fatta non ce l'ha fatta infatti in Champions andranno il West Ham lo United il Brighton e il Tottenham campione l'Everton finirà in Conference League e il Leicester finirà in Europa League insieme alla squadra vincitrice dell'FA Cup il Chelsea e quindi niente Turbo Chavada per il Norwich che vi devo dire in ogni caso Carabao Cup che va a Leicester e boh la Salernitana sta giocando la Champions ah giustamente il bomber è stato il signor Charles del Nottingham Forest proprio lui Carlo 18esima stagione anno 2040 inizia a farmi male la testa non ci capisco niente al di là del fatto che retrocedono Nottingham Forest Crystal Palace e Aston Villa che fino a 2-3 stagioni fa se ne stava in Europa il Liverpool si è salvato soltanto per la differenza a reti il City è a più 2 sulla zona retrocessione il Tottenham che ha dominato gli ultimi 4-5 anni in Inghilterra ora è decimo con solo 50 punti e il West Ham ha vinto il campionato prima che ci siano riuscite l'Arsenal e lo United questa cosa non ha senso quindi sì West Ham United Chelsea e Leicester in Champions League il Norwich ce l'ha fatta e si qualifica in Europa League in compagnia del Brighton mentre il Newcastle finirà in conference ma signori non è finita qui perché va bene il Chelsea ha vinto un FA Cup ma non mi interessa più niente del Chelsea signori il Norwich ha vinto la Carabao il Norwich ha vinto un trofeo nel sacro nome di Timo Pucchi ce l'hanno fatta in Europa cos'è successo però niente solo lo Spezia in finale di conference ok ah come sempre mi dimentico bomber di stagione il signor Abdulrahman ecco perché il West Ham ha vinto è colpa sua merito non colpa credo che Dürr Gordon's last lint 05 sia una delle finali di coppe europee più fottute di cervello della storia ma è anche l'unica interessante perché nelle altre due non c'è neanche una squadra inglese e il Bayern Leverkusen ha rotto il cazzo è tipo la sesta Champions che vince no però sono curioso di vedere cosa ha combinato il dannatissimo Norwich primo è imbattuto nel gruppo G elimina l'Ellas Verona agli ottavi di finale che cazzo ci fa quel Venezia e poi perde col Borussia Mönchengladbach ai quarti peccato gran peccato in ogni caso tornando in Inghilterra abbiamo lo United che vince la Carabao il Leeds che vince la FA Cup un po' a cazzo di cane e poi un campionato di livello davvero infimo vinto dal Chelsea con 75 punti Blues che finiscono in Champions insieme allo United dal Leeds al Brighton mamma mia che quartetto incredibile con il Leicester e l'Everton che vanno in Europa League e il West Ham che va in Conference da campioni in carico ok comunque dico che ha un livello infimo perché cioè ci sono pochissimi punti che separano la prima squadra retrocessa cioè il Sunderland dalla zona Europa cioè sono 20 punti sono pochissimi 20 punti sono niente e comunque se il Sunderland retrocede insieme a Watford e Brentford che si alutiamo definitivamente perché questa è la penultima stagione boh non ha fatto un cazzo vabbè ah comunque il signor Brown vince il titolo di capocannoniere bravo Beppe Surmacchio vieni su di me zooma più vicino ancora un attimino di più perfetto voi non siete pronti anzitutto cominciamo dall'Europa dove l'Everton solleva il primo trofeo di questa gigantesca simulazione ed è una Conference League in Champions purtroppo non abbiamo altri vincitori perché il Bayern Leverkusen avrà vinto la sua settima barra ottava Champions League in 20 anni che palle mentre concentrandoci un attimo sui golador abbiamo il primo giocatore in grado di superare i 32 gol di Rodrigo e Darwin Nunes e l'uomo in questione è il signor Christensen del Chelsea 34 gol in 38 partite mostruoso quest'uomo e a proposito di Chelsea i Blues hanno vinto sia la FA Cup che la Premier League con il Tottenham che intasca l'ennesimo trofeo di questa simulazione vincendo la Carabao il che è abbastanza surreale e buttando di nuovo lo sguardo sul campionato abbiamo United Wolverhampton e Brighton che joinono il Chelsea in Champions League l'Everton che è da giocarsi all'Europa League con il Tottenham e infine l'Arsenal in Conference League ha più uno sul Coventry cioè il Coventry ce l'ha quasi fatta però signori è successa una cosa non clamorosa di più io non so il Manchester City ha concluso l'ultima stagione all'ultimo posto con solo 31 punti dietro al QPR che fa la sua prima apparizione all'ultima stagione e dietro al Crystal Palace questa cosa è clamorosa cioè il City potrebbe aver perso effettivamente la testa della classifica maxi classifica che tuttavia ancora non ho stilato perché devo inserire ancora tutti quanti dati quindi ora lo faccio e poi vediamo cosa ne esce fuori perché cioè questa simulazione è stata magica mi raccomando lasciate lo sto like perché cioè incredibile sto video e cominciamo quindi dalla scarpa d'oro della scarpa d'oro cioè il trofeo che verrà assegnato al miglior goleador di tutta questa maxi simulazione che come detto va al signor Christensen il quale nella stagione 2041-2042 quindi proprio l'ultima ha messo a segno 34 gol 2 in più rispetto a Rodrigo e Nunez che a cavallo dal 2027-2028 ne hanno fatti 32 e 4 in più di Salah e Holland che rispettivamente nel 2023 e nel 2034 avevano messo a segno ben 30 gol ma in ogni caso sappiate che il giocatore più longevo il giocatore migliore è stato senza dubbio Erling Brautholland con ben 6 scarpe d'oro nell'arco di 13 anni mostruoso quest'uomo mentre passando all'albo d'oro possiamo già vedere un qualcosa di non strano di più però partiamo dalle cose forse un po' meno interessanti ossia le retrocessioni che vedono come squadra più retrocessa il Watford 6 retrocessioni in 20 anni abbastanza realistico mentre il team che ha vinto più trofei in questi 20 anni di carriera su FIFA 23 è la squadra che in real life è più memata perché non vince mai signore e signori il Tottenham 13 trofei nazionali e 4 trofei continentali 4 Premier 4 Carabao 5 FA Cup 2 Europa League e 2 Conference League insomma un bottino di tutto rispetto mentre la seconda squadra più titolata è stata il Manchester City che è sì la squadra che ha vinto più Premier League ma che una volta arrivati al 2035 è letteralmente scomparsa non ha fatto più niente mentre la squadra più consistent quella che ha ottenuto i risultati mediamente migliori è stato il Chelsea perché ok ha comunque sollevato 16 o 15 trofei che ovviamente schifo non fanno ma allo stesso tempo è anche la squadra che si è qualificata più volte a una competizione europea ben 19 volte su 20 stagioni l'unica in cui ha mancato la qualificazione è stata la 2037 2038 non è vero 20 su 20 me l'ero persa ups ha fatto punteggio pieno tra l'altro quasi sempre in Champions perché 18 stagioni su 20 in Champions le altre due in Europa League non male ma signori è giunto il momento di svelare la classifica totale la maxi classifica che non è clamorosa di più perché signori con 1479 punti totali cioè una media di circa 74 punti a stagione la squadra che ha ottenuto più punti in questa maxi classifica in questa mega simulazione è il Chelsea 6 titoli per i Blues uno soltanto in meno rispetto alla squadra che è arrivata a seconda ossia il Manchester City patito in maniera enorme gli ultimi 5-6 anni di simulazioni in cui eh non ha fatto male ha fatto addirittura peggio di male terzo posto più che meritato per il Tottenham che avendo vinto tutti quei trofei è giusto che si ritrovi sul podio nella maxi classifica quarto posto per l'Arsenal nonostante qualche anno difficoltoso ma di fatto gli anni difficoltosi li ha avuti anche lo United che ha concluso al quinto posto e voi direte ti arma il Liverpool e regà il Liverpool è arrivato addirittura al nono dietro al Newcastle al Leicester al Wolverhampton il Brighton ha fatto soltanto 70 punti in meno rispetto al Liverpool che nell'arco di 20 anni non sono tanti anzi quindi è il momento di dare i premi direi di sì miglior squadra senza dubbio il Chelsea squadra che non ha mancato neanche un singolo appuntamento quindi si merita il premio di miglior squadra mentre il premio di squadra peggiore non so a chi darlo perché non c'è stato un team particolarmente schifoso vorrei dire il Watford ma il Watford per 5-6 stagioni si è salvato quindi forse il Sunderland che è riuscito a salvarsi soltanto in un'occasione non lo so sinceramente no che cazzo dico regà il Southampton il Southampton è una squadra che ha delle potenzialità enormi invece ha fatto cagare e mi aspetto molto di più dal Southampton che dal Sunderland siamo sinceri squadra e sorpresa direi il Brighton e il Norwich tra le due forse di più il Norwich ma anche il Brighton alla fine per quanto male era partito si è tirato fuori alla grandissima mentre squadra deludente regà lo United lo United non ha vinto un cazzo non ha vinto un campionato ha vinto soltanto tre trofei che sono gli stessi che ha vinto il Brighton cioè non ha senso per una squadra di quel tipo regà è stato magico credo sia una delle simulazioni di tot anni più belle che abbia mai fatto e a questo punto non vedo l'ora di scoprire cosa accadrà con Liga, Bundesliga e Serie A che abbia mai fatto